buongiorno a tutti buon martedì 6 agosto cominciamo con un po di belle notizie se no si fa la fine degli scantinati o degli intertristi pessimisti cosmici è tornato lautaro martinez ieri sera quella bellissima foto che ha postato salutando la sua milano la sua città il suo pubblico i suoi tifosi andando a ridursi anche le vacanze per essere pronto per cominciare prima la preparazione per esserci a genova il 17 agosto anche perché è più che mai fondamentale adesso la sua presenza non solo per l'infortunio lieve leggero di taremi che però probabilmente gli farà saltare la prima di campionato la speranza è che possa recuperare almeno per andare in panchina lo vedremo anche se sta svolgendo solo terapie quindi questo di solito vuol dire che non è proprio una passeggiata ma un problema da superare ci vorrà un po di tempo sono arrivati anche gli esiti degli esami svolti da zilinski e da arnautovic e diciamo che il risponso non è quello che si sperava perché dovranno marcar visita anche loro e dunque enzaghi si ritrova senza tre giocatori al 6 agosto con la prima giornata da preparare probabilmente a rischio anche per la seconda per arnautovic una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra tutte cosce sinistre da valutare giorno per giorno probabile una decina di stop per il centrocampista invece polacco risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra che quello al momento un po più complicato dunque vengono a mancare i nuovi acquisti e poi c'è una riflessione assolutamente da fare sull'attacco su arnautovic sulla punta però prima diamo qualche altra buona notizia incontro per dumfries come avevamo anticipato con i suoi agenti per il rinnovo è andato bene e dunque come avevamo detto prima di tutti gli altri accordo per un nuovo contratto di 4 anni a 4 milioni a stagione come la prima offerta dell'inter che l'olandese aveva rifiutato purtroppo quando era ancora possibile sfruttare il decreto crescita e sistemato spunta verde anche al rinnovo di dumfries dopo quelli di barella di enzaghi di lautaro che ricordiamo è già stato firmato come ha detto marotta e adesso che è tornato bisogna solo calendarizzare tutta l'attività diciamo media house stampa per annunciare il suo rinnovo a 9 milioni più bonus in cui è stato determinante proprio il giocatore ad accettare la massima offerta possibile dell'inter della nuova proprietà che non ha badato a spese che che ne dica qualcuno per andare a chiudere tutti questi rinnovi senza mettere nessun tetto massimo di ingaggi senza fare come da altre parti senza rischiare di far diventare le situazioni dei top player diciamo un pericolo o un qualcosa di preoccupante ma andando a risolverle subito e sono comunque tutte operazioni onerose che devono essere considerate all'interno di una campagna di mercato che ha visto arrivare a zero taremi zilinski più il pepo martinez più topalovic più alex perez che al momento verranno aggregati la primavera ma poi studiati e costruiti magari anche da inzaghi se ce ne dovesse essere il bisogno cercando di farli acclimatare e crescere prima di andare a parlare di arnautovic dell'attacco di tutte le questioni collegate cercate di dare un aiuto un po diciamo maggiore al canale nel senso che stiamo volando siamo a meno 767 iscritti ai 50 mila però per arrivarci prima di inizio il campionato dobbiamo alzare alzare il volume alzare la velocità se no non riusciamo a fare la nostra impresa a vincere la nostra scommessa la nostra challenge scaramantica quindi continuiamo con l'operazione porta un amico se tutti voi che siete in ascolto riuscite a farlo ci arriviamo in due giorni ai 50k fate un piccolo regalo al canale che vi dà tutto questo notizie sempre non vi abbandona mai verifiche smascheramenti di cialtroni cialtronate e chi più ne ha più ne metta con addirittura che si vede trasformare i suoi sondaggi in copertine contrattative clamorose in prima pagina ma che voi sapete benissimo che erano soltanto delle butad che abbiamo creato noi che qualcuno che ha poco da scrivere ha sfruttato poi c'è qualcuno che mi ha scritto dovresti limitare queste cose ma adesso stiamo scherzando volete venire a dirmi cosa devo fare io in casa mia cioè o non posso neanche più fare in live dei sondaggi su alcune ipotesi di mercato come ne abbiamo fatte di altre 120.000 abbiamo parlato anche di Adeyemi che non lascerà il Borussia Dortmund di poi giocatori che non ci sono mai state trattative ma è chiaro che per fare il content per passare più di un'ora insieme si parla ci si confronta si provano anche a delineare delle ipotesi fantasiose ma tutto chiaramente come sapete chi segue il canale con grandissimo rispetto e senza inventare nulla senza creare scompiglio questo lo fanno altri che magari prendono quello che noi diciamo facciamo in live e lo trasformano in cose che non hanno nessuna attinenza con la realtà ma con chiari scopi subito dichiarati come quando appunto parlavamo dello scambio chiesafrattesi vi ho detto non c'è quante volte vi ho detto non c'è nessuna trattativa è solo una mia provocazione voi lo fareste o no perché comunque c'è un po di diciamo voglia di giocare titolare da parte di frattesi e c'è un interesse crescente di chiesa anche lì ne abbiamo parlato per primi e poi vedete cosa si è creato costruito ma anche su chiesa cosa vi ho detto per me altamente improbabile molto difficile se non a zero ma poi parliamo anche di chiesa in un altro momento firmate la nostra petizione che non siamo neanche a 3.000 firme questo un po mi dispiace perché siamo veramente quasi in 50.000 iscritti al canale non arrivare neanche a 3.000 firme un po mi dispiace doppio clic per stoppare l'odio sui social per aiutare anche le autorità a rintracciare chi si macchia di reati di diffamazioni pesanti di minacce di morte di tutto quello che non si dovrebbe mai fare sui social che invece noi utilizziamo per creare condivisione per portare anche dei valori che sembrano forse sempre più astratti come l'educazione rispetto l'amore per il football con l'apertura a qualsiasi tipo di colore di maglia con la voglia di parlare di calcio tra di noi senza offese senza mancanze di rispetto con l'unico obiettivo passare 33 minuti e 08 09 scegliete voi in leggerezza e poi qualche live come stasera mi raccomando riapriremo la cam la barza tv su a piano gentile per cercare anche di intercettare il capitano lautaro martinez che inizierà subito ad allenarsi subito la sua preparazione dopo la vittoria della coppa america per aiutare l'inter nella difesa del titolo per provare a partire forte nonostante una situazione di emergenza perché insomma ti vengono a mancare i due nuovi acquisti taremi e zirinski più anche arnautovic non è sicuramente la migliore delle situazioni sperando che domani a monza contro la litiad vada anche un po meglio dal punto di vista fisico del gioco dopo il mezzo passo indietro fatto con il pisa si alza il livello anche degli avversari e soprattutto che da qui a inizio il campionato non ci siano più altri problemi come mai queste situazioni muscolari questi risentimenti perché si è caricato molto come aveva anche detto zilinski in un'intervista non aveva mai fatto una preparazione così dura questi sono gli effetti anche di due giocatori che un po sono stati messi da parte da porto e napoli nell'ultima stagione proprio perché già d'accordo con l'inter già avevano firmato con l'inter e dunque poi diciamo che loro non hanno avuto la stessa intensità e quindi hanno trovato un po di problemi in questo inizio di stagione in cui la preparazione sarà determinante l'abbiamo detto per un'annata durissima con il 30 per cento di partite in più dalla champions col mondiale per club a chiudere un'annata in questa novità che non si era mai vista insomma e quindi anche la preparazione secondo me dovrà essere molto ancora più studiata per arrivare alla fine e cercare di non arrivarci col serbatoio di riserva vediamo un po adesso anche valutando i casi singolarmente di giorno in giorno come si evolveranno gli infortuni se si riuscirà a recuperare un po prima diverso il discorso di un arnautovic che mi sembra sempre di più un rischio cioè cominciare la stagione con lui come quarta punta senza una quinta mi sembra una situazione molto pericolosa e ditemi se siete d'accordo prima amichevole già subito un problema ma muscolare come i due che avevano diciamo limitato la sua prima stagione in momenti anche importanti e clou in cui sarebbe servito facendogli comunque fare un passo indietro dal punto di vista fisico non si è mai visto secondo me al top proprio per questi problemi a un anno in più e alla prima amichevole già subito marca visita secondo me questo è un campanello d'allarme anche perché vedete alla fine le alternative non ci sono con Inzaghi che sarà costretto a schierare Turam a cui facciamo gli auguri oggi il suo compleanno e forse Lautaro se riuscirà a fare un percorso di preparazione in questi 11 giorni di livello senza accusare problemini o affaticamenti però non hai già nessun'altra alternativa e qui mi chiedo dal momento che comunque anche ieri già si sapeva l'infortunio di Arnautovic già sai che Taremi starà fuori Lautaro si sta tornando però deve fare la preparazione da zero io avrei stoppato Carboni ma non l'avrei proprio mandato a Marsiglia oggi sarà ufficiale fatto visite mediche tutto io l'avrei tenuto ma anche per le prime due giornate poi vedere che cosa anche sarebbe successo però pensate magari a un Carboni che gioca titolare perché Lautaro non è ancora pronto e ti fa due tre gol poi non lo vendi più e te lo tieni quindi due le cose uno l'avrei stoppato almeno momentaneamente due l'avrei tenuto perché serve una quinta punta se la quarta soprattutto sarà Arnautovic ditemi anche qui se siete d'accordo con questo discorso in una stagione così lunga con tutti questi impegni un Arnautovic che non ha una garanzia diciamo di tenuta è molto pericoloso senza avere anche un quinto attaccante che avevamo detto poteva essere uno della cantera per non avere problemi di lista e cercare quindi di avere un'alternativa in più potrebbe essere un'alternativa Correa alla fine proprio sì forse l'Inter se non si dovesse raggiungere un accordo con nessuna squadra tra l'altro ne ha parlato Verón presidente delle Studiantes in un suo ritorno in Argentina è altamente complicato e difficile anche perché Correa crede di potersi giocare ancora le sue chance in Europa ad alto livello speriamo che magari già domani possa dimostrarlo dopo le prime uscite veramente sotto tono demotivato poco anche inserito con poca voglia di mettersi in mostra però la morale di questa situazione che serve almeno una punta se non due per avere un reparto d'attacco a livello anche per pensare di far meglio in Champions League secondo me poi chiaramente ne sanno molto di più in viale della liberazione da piano gentile però mi sembrava anche che le parole di Inzaghi fossero in questa direzione sia a fine stagione che nella sua prima conferenza quando aveva parlato molto bene di Carboni e di una sua permanenza come per far capire che o Carboni o chi per lui fosse necessario come rinforzo per l'attacco da questo possibile diciamo da questa lista intanto qui arrivano un po' di smantellatori smartellatori che ci provocano un po' di problemi di audio dicevo dalla lista dei possibili rinforzi probabilmente sta uscendo Gudmundson ha cifre però che si potevano benissimo secondo me raggiungere quindi si accende un altro punto di domanda perché comunque la trattativa che la Fiorentina sta per chiudere col Genoa ha alzato leggermente la quota di prestito oneroso a 6-7 milioni con un riscatto a 18 per un valore complessivo di 25 condizionato a presenze quindi anche alla sua situazione extra calcio ma proprio anche perché c'era questo diciamo pericolo processo Gudmundson secondo me si sarebbe dovuto tenere Carboni poi anche sul fronte Marsiglia con tutti gli acquisti che sta facendo in attacco tra l'altro dovrebbe arrivare anche Mukoko dopo Greenwood e tutte le manovre fatte non so se è proprio così sicuro che Carboni giocherà sempre titolare e che quindi avrà più spazio di quello che magari si sarebbe potuto conquistare all'Inter su Gudmundson in tanti stanno insomma diciamo scrivendo messaggi abbastanza negativi non è ancora chiusa si sta per chiudere con ottimismo crescente in casa Fiorentina c'è ancora un po' di margine ma come per tutte le trattative se non si dovesse chiudere state tranquilli che l'Inter avrà un'alternativa anche più di una di pari livello se non superiore su cui si sta lavorando tra l'altro mi riaggancio alla questione Fiorentina problemi con Tesman sembrava chiusa ma anche qui come con l'Inter i suoi agenti hanno fatto delle richieste talmente alte che non si è trovato l'accordo finale per chiudere quindi capite insomma che non è che l'Inter vada a trovare difficoltà ma è un po' da tutte le parti che si stanno riscontrando soprattutto da certi tipi di agenti che mirano soprattutto al fronte al versante economico tra l'altro si sta creando un giro di punte a livello europeo con Omoro Dion che dovrebbe andare al Chelsea e quindi stoppare anche un possibile arrivo di Ozyman dall'Atletico che invece ha praticamente definito l'acquisto per 70 milioni di Julian Alvarez e vedremo anche in City come si muoverà chi andrà a prendere come alternativa a Oland sicuramente perde un giocatore che aveva risolto parecchie partite anche uscendo dalla panchina come l'argentino attenzione a quello che può succedere sul mercato con il Napoli ancora però bloccato e col Paris Saint Germain che gioca al ribasso e la situazione non è semplice capite insomma anche con tutti i giocatori in esubero che hanno Juve, Milan, il Napoli bloccato da Ozyman non è che la situazione sia florida per tutte le inseguitrici con un Inter che adesso deve fronteggiare questa momentanea emergenza ma diciamo che rinnovato anche Dumfries la situazione è molto molto diciamo buona da campioni d'Italia con le due stelle sulla maglia bisogna adesso cercare le ciliegine passiamo alla questione chiesa che ha fatto così tanto discutere deflagrata con riscontri su un po' tutti i media con la possibilità che addirittura abbiamo letto sul Corriere della Sera non solo su tutto sport che possa essere una trattativa in questa sessione di mercato vi ho detto secondo me altamente improbabile ci potrebbe essere un'offerta sul Gong se chiesa tenesse il punto e rifiutasse qualsiasi possibilità gli venga proposta da una decina di milioni a cui io credo poco che la Juventus comunque lo ceda all'Inter per una cifra bassa piuttosto che perderlo a zero però è un'ipotesi che non possiamo escludere si parla di una Roma di nuovo interessata anche se adesso con Dovbic con Sule diciamo che non è che avrebbe così tanto bisogno di un chiesa da mettere in una squadra piena di giocatori offensivi tra Di Bala lo stesso Esharawi Pellegrini Baldanzi non la vedrei molto come operazione se non avessero preso Sule magari però comunque c'è anche un like di De Rossi al posto di chiesa secondo me l'unica strada percorribile per chiesa è a zero tra un anno ed è molto difficile complicata perché vorrebbe dire che chiesa che è già stato messo fuori squadra tenga il punto si metta di convinto di aspettare rischiando di perdere un anno con la possibilità comunque che anche Spalletti si faccia sentire per non perdere un giocatore chiave per la nazionale italiana e che vada a scadenza e poi a mettersi d'accordo con l'Inter non so se possa veramente realizzarsi questa cosa però secondo me è l'unica strada percorribile cambio con frattesi ve ne abbiamo già parlato avevamo detto che era un pur parlet che è stato trasformato a notizia ma capite anche l'autorevolezza comunque che abbiamo quando parliamo di qualsiasi cosa per il ruolo di Braccetto ci sono ancora le candidature soprattutto di Gasiorowski con il Valencia che però dovrebbe abbassare un po' le sue pretese così come lo Zenit aprirà il presito di Renan io sono sempre convinto che non è così fondamentale il Braccetto di sinistra anzi farei un'operazione come dicevo ieri sposterei Bisseca a sinistra lo proverei come prima alternativa sia a Bastoni che a Pavard arretrerei Darmian e piuttosto andrei a cercare un rinforzo sull'esterno di destra da dividere poi la fascia con Dumfries che potrebbe essere anche Chiesa se desse la sua possibilità la sua apertura a giocare a tutta fascia a tornare un po' al ruolo originario che aveva inizio carriera secondo me però anche lì anche sul ruolo di Braccetto possibili sorprese in arrivo mentre bisogna cercare di risolvere un po' di situazioni in uscita Correa abbiamo detto è quasi un'impresa e la risoluzione mi sembra l'unica strada percorribile Perradu Strasburgo Onant ipotesi francesi Stankovic potrebbe tornare alla Sampdoria anche per diciamo aiutare alla chiusura dell'operazione Leone che si è un po' bloccata o anche lui in Francia ha diverse offerte Satriano si sta allenando a Interello e ancora sembra poco convinto del Brest nonostante comunque la risposta abbastanza dura dell'Inter che insomma ci contava su quei 6 milioni della sua cessione per andare anche ad inforzare la squadra direi che abbiamo fatto uno sguardo d'insieme in attesa di novità della partita anche di domani per capire le evoluzioni per vedere per la prima volta Pavara e soprattutto Turam in campo sperando che non ci siano altre problematiche di infortuni perché già l'Inter parte un po' ad handicap con questi tre giocatori che non ci saranno per la prima partita sicuramente vedremo se poi per il debutto casalingo contro Lecce ce la faranno andiamo a leggere adesso un po' di vostri messaggi giusto per alzare il livello naturalmente l'argomento preponderante è la situazione chiesa e quello che tutto sport ha messo in prima pagina senza dimenticare Gudmundson con vediamo un po' Andrea che scrive Gud ha o quanto pare sembrava avesse le caratteristiche richieste per il rinforzo preciso per l'attacco chiese l'occasione che può stupire il giocatore in forma entusiasmante sappiamo cosa significhi la voglia di rivalza di chi si sente scaricato frattesi non si sfiora neanche col pensiero ma ve l'ho detto l'Inter non lo darà mai alla Juventus Ikiro che dice esistono davvero degli illusi che credono allo scambio frattesi chiesa poi però bisogna capire anche vedere l'eventuale conguaglio perché già se si superassero i 25 milioni andresti a rinforzarti sull'esterno e poi avresti anche il cash per andare a prendere magari Gudmundsson e anche un centrocampista vi ho detto O'Reilly attenzione che l'Inter è tornata a interessarsi al centrocampista con doppio passaporto danese e inglese che ha fatto una stagione straordinaria al Celtic che piace tanto all'Atalanta che però adesso deve pensare a sostituire Scamacca che piace tanto anche alla Juventus che ha fatto dei movimenti in questo senso non capisco dice Patrizia perché aiutare la Juventus a rinforzarsi ma anche no ma vi ho detto non c'è nessun tipo di trattativa di questo genere e hanno creato un qualcosa che non esiste Anthony sempre più vicino ai 50k forza aiutate il canale uno sprint per la nostra interna ma perché non potevamo tenerci carboni se ci troviamo con questa emergenza in attacco mi sembra che l'ho appena detto fa di nuovo le condoglianze a Roberto Stomaci la Luletta e tutto il nostro canale così anche Joseph Mega tra neanche due settimane sarà Genoa Inter inizierà la difesa del titolo detto ciò non vorrei sembrare brutale ma è giunto il momento di ringraziare salutare Arnautovic quello che ha rappresentato e che rappresenta nello spogliatoio e Correa perché se vogliamo fare il salto di qualità serve assolutamente uno switch in attacco di cui qui parliamo da mesi questi due calciatori vanno salutati con rispetto ma con chiarezza e determinazione viva il canale Marco Barzaghi a basso gli scantinati questione chiesa come al solito sei arrivato prima di tutti sulla notizia e sembra che l'operazione possa effettivamente prendere piede a certe condizioni ma a Juventus si scordi di frattesi Tony non voglio darne sei a chiesa non vogliono darne sei a chiesa e poi sento che Bremer era rinnovato per sette scambio chiesa frattesi fanta calcio fanta barza potevamo anche definirlo per Tarcisio 30 milioni più chiesa si potrebbe anche fare vabbè io lì inizierei a pensarci perché comunque potresti poi fare una discreta plus valenza anche rinforzare la squadra nei ruoli che hanno bisogno tutto sport e le sue barzellette Gianluca prende addirittura 30 like Federico dice ancora vogliono frattesi neanche per sogno vendere Radu con quell'ingaggio che ha titolo definitivo sarebbe un colpaccio per crew fanatic Bissek può fare tutti i ruoli della difesa l'emergenza in emergenza anche la punta e l'avevo detto che io proprio a Madrid l'avrei messo in attacco per sfruttare i suoi centimetri nel finale io penso che nella vita bisognerebbe avere l'umiltà scrive Mattia a volte di fare autocritica un passo indietro spero che Arnautovic lo faccia ma ci credo poco secondo Alberto Bissek starebbe molto bene a fare l'esterno-destra al posto di Dumfries Massimo Cattaneo un grosso abbraccio a Roberto sono sicuro che i nostri dirigenti riusciranno a prendere una punta veloce e a completare la rosa al meglio Alessandro spero veramente che i nostri dirigenti facciano quanto da noi detto da mesi già un errore aver preso Arnautovic per 10 milioni e 3 mezzonetti è stato un errore gravissimo non sostituirlo sarebbe diabolico Chiesa sì ma Chiesa frattesi no dice Giuseppe condoglianze da parte di Maurizio anche lui al nostro fratello Roberto concordo con te Marco Bondi c'è il barcetto di sinistra in sostituzione di Biucana non è una vera necessità e tantomeno emergenza serve la punta con le uscite di Arnautovic Correa Sassetto Satriano tutti in un'altezza del ruolo Chiesa subito frattesi non si tocca un po' il vostro pensiero ricorrente anche Fabrizio dice ma che senso a dare Carboni per un milione con la situazione in attacco che abbiamo con Taremi fuori Arnautovic non ha l'altezza fuori anche lui Carboni avrebbe giocato subito sono d'accordo l'ho detto prima andiamo a fare un minimo di rassegna stampa a vedere cosa c'è sui giornali per quanto riguarda le pagine nero-azzurre con altri espluà alle Olimpiadi di Parigi con l'oro di Damato storica nella ginnastica di Baccosi e Rossetti il rinnovo di Bremen il resto per vincere e poi all'interno un po' l'emergenza di Simone Inzaghi che si trova veramente già senza tre elementi fondamentali per cominciare la stagione ma per fortuna c'è un Lautaro che è già tornato e che non vede l'ora come aveva già postato su internet emergenza Inter Inzaghi perde anche Zilinski il K.O. di Arnatovic riapre la ricerca di un attaccante il polacco torna a fine mese l'austriaco prima però salta l'esordio come Taremi dietro la Tula ora c'è solo Miki Tariane e poi Lautaro già a Milano Dunfriss la gente vede il club il rinnovo è sempre più vicino su il Corriere dello Sport bypasserei non c'è nulla di interessante per quanto ci riguarda parole di Elkan in copertina la D'Amato d'Oro e anche la gran rimonta di Little Volley su tutto sport si torna a parlare dello scambio chiesa frattesi però ne approfondiremo meglio la situazione stasera